Nei primi nove mesi del 2014 in Campania, i bandi di gara pubblicati per i lavori pubblici sono stati 1.893, con una variazione rispetto allo stesso periodo del 2013, 950 bandi tra gennaio e settembre, pari al 99,3%. Sotto il profilo degli importi si è passati nello stesso periodo da 1.318 milioni a 2.597 milioni del 2014. Se si scende nel dettaglio delle soglie dei bandi di gara, si evince che quelli relativi ai lavori fino a 50 milioni di euro sono aumentati nei primi nove mesi del 2014 del 100,5%, per un importo di 2.010 milioni, mentre quelli oltre i 50 milioni di euro sono aumentati dell'85%, per un totale complessivo di 587 milioni. I dati sono stati estrapolati dal Centro Studi Ance Salerno, dalla consueta nota analitica della Direzione Affari Economici e Centro Studi di Ance Nazionale. La crescita dei bandi, spiega Ance Nazionale, è trainata dalle regioni del sud, in particolare Campania e Calabria, registrano un valore più che raddoppiato dei bandi pubblicati rispetto ai primi mesi del 2013. Tra le cause del trend si inseriscono con molta probabilità l'allentamento del patto di stabilità interno, l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali europei, l'attuazione di provvedimenti del Governo in relazione all'attività appaltante dello ferrovie dello Stato e dell'ANAS. Nel caso specifico della regione Campania, va rimarcato che ha delegato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approfondisce Ance Nazionale, la pubblicazione di 5 bandi per complessivi 447 milioni di euro relativi ai lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni. Naturalmente la pubblicazione dei bandi di gara, rimarcono gli analisti di Ance Salerno, che va segnalata con un fattore positivo, andranno ogni caso monitorata al fine di verificarne gli effetti concreti all'interno della filiera delle costruzioni. È forte il timore, si fa osservare dal centro studi di Ance Salerno, che per constatare gli effetti derivanti dalla pubblicazione di tali bandi, si debbano attendere tempi medio-lunghi senza contare i prevedibili rallentamenti dovuti al fenomeno dell'ostruzionismo burocratico.